Allora i complimenti da studio a Gigi Cuppone, naturalmente i complimenti nostri, diceva Massimo Profeta che hai sofferto in silenzio e questa sera hai ripagato la fiducia dell'allenatore. Sì, sono contentissimo della prestazione che ho fatto personale e la prestazione che abbiamo fatto di squadra, mi godo questo piccolo momento che me lo meritavo dopo queste settimane avute. Come nelle favole, torni in semifinale, segni due gol e sei il miglior in campo e porti il Pescara a Foggia. Ho lavorato in queste settimane apposta per farmi trovare pronto e per fortuna e grazie anche a me ci sono riuscito. Allora raccontiamo i gol, cominciamo dal primo su quella situazione in aria dopo la sponda di Brosco. Sì, ho visto la sponda di Brosco, ho visto che la palla stava rimanendo lì e ho cercato di spostarla per tirare e sono riuscito. Poi nel secondo tempo sei andato a prenderti il pallone e hai calciato con tanta rabbia, poi che ci sia un po' la complicità del portiere conta poco. Sì, il secondo ho visto che la rimessa la voleva battere sul loro centrocampista, sono andato a pressarlo, sono riuscito a rubare le palla. Poi ho tirato e un po' ho preso in contratempo il portiere con una piccola devazione, sono stato un po' fortunato però sono contento. A Zeman chiaramente abbiamo chiesto e adesso potrebbe cambiare qualcosa nelle gerarchie lì davanti. Zeman ha risposto non so se è stanco Cuppone, devo vedere se recupera per domenica. Io credo che Cuppone possa correre già adesso 90 minuti. Io come ho detto ho lavorato in queste settimane, in questi giorni per farmi trovare pronto al mister. Il mister mi conosce bene e sono contento per quello che ho fatto e mi faccio trovare pronto. Ma potresti correre ancora adesso o sei un po' stanco? Sì, se ci sono altri 90 minuti li faccio volentieri. Dai volentieri, quindi anche a Foggia? Se è possibile sì. Foggia-Pescara, cosa ti aspetti? Che partite immagini? Arrivati in semifinale ormai tutte le squadre sono forti, sappiamo della difficoltà degli avversari e niente, lavoriamo in questi giorni per farci trovare pronti domenica.